Viviamo questo momento di crisi e ne usciremo, ne sono certo, soltanto se ciascuno esercita il livello di responsabilità che gli è proprio. Mi riferisco ovviamente al cittadino, ma mi riferisco ovviamente anche alle istituzioni. Si è presentato alla stampa lanciando un chiaro messaggio legato all'emergenza sanitaria in corso. Il nuovo prefetto di Como, Andrea Polichetti, subentrato ad Ignazio Coccia, andato in pensione. Polichetti, 59 anni, ha ricoperto il ruolo di direttore centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni ed è già stato capo di gabinetto alle prefetture di Latina e Varese. Insediatosi ieri in via volta, Tante ha detto le problematiche che dovrà affrontare nel Comasco, a partire dalle ripercussioni della pandemia sull'economia e sulla sicurezza del territorio, dalla povertà crescente alle attività in crisi e a rischio di infiltrazioni malavitose, in primis nel settore della ristorazione, cui segnali devono essere tempestivamente raccolti e combattuti con l'unione di tutte le forze del territorio. Credo molto nella coesione territoriale, per cui la coesione territoriale è il fare squadra concretamente su alcuni problemi, soprattutto in grandi momenti di difficoltà come quello attuale, sia possa essere una modalità da seguire perché ha più possibilità di creare successo per ogni iniziativa di soluzione. In passato, Ispettore per la Verifica della Gestione del Centro di Accoglienza di Isola Capo Rizzuto ha individuato tra le priorità da risolvere la questione dei senza fissa di Mora. I senza tetto sono anche una categoria anagrafica, per cui non sono tipici della provincia di Como. Per cui, a fronte di una difficoltà come può essere quella a cui andiamo incontro, cioè al periodo di grande freddo, è una qualche iniziativa che in qualche modo possa, pregiudicare eventi spesso letali, come abbiamo conosciuto in passato, credo sia doverosa. Il dormitorio nella ex caserma di Via Borgovico rappresenta una iniziativa di solidarietà da inquadrare all'interno di un piano normativo da rispettare, spiega Polichetti, che è intervenuto anche sulla difficile questione della viabilità e del trasporto pubblico locale. Un tema delicato, ha detto sotto accusa, come veicolo di diffusione del Covid. Se necessario, spiega, bisogna intervenire e capire le ragioni di eventuali disservizi.